Si cerca in tutti i modi di far quadrare i conti. La Lega potrebbe rinunciare all'assessorato dell'agricoltura e le dulci a quello della cultura. L'associazione prema i servizi nell'isola dedicati alle donne. Ieri il centro dell'egresiente era in festa in onore del santo patrono della città e dell'isola. Non si placano le polemiche per l'incontro di calcio tra Napoli e Cagliari. Ben ritrovati da Maurizio Melis, sono le 14.02 in questo momento quando inizia il nostro giornale come sempre in diretta. In primo piano la politica, la Giunta fa fatica a definirsi, sono in atto degli accordi pur di arrivare alla soluzione e dare finalmente un governo all'isola. Il punto di vista del direttore dell'Unione Sarda, Emanuele Di Sì. Con Emanuele Di Sì, direttore di Videoline dell'Unione Sarda, affrontiamo l'argomento della politica in Sardegna. Dall'osservatorio privilegiato di un giornale, qual è la sensazione? Antonello, certamente c'era da aspettarsi di più visto il piglio decisionista dell'alleato forte di questa coalizione, ovvero la Lega e in particolare Salvini. Domani il presidente eletto Cristian Solinas presenterà le sue dichiarazioni programmatiche, sono trascorse più di 70 giorni dal voto, c'è ancora una giunta incompleta, parrebbe che nemmeno domani conosceremo il nome dei potenziali, sette nuovi assessori della giunta Solinas, quindi il giudizio è sospeso in termini di efficacia dell'azione politica. Certamente il giudizio è negativo rispetto a una tempistica che non ci si aspettava, proprio per quel decisionismo manifestato in campagna elettorale da Salvini più di tutti, ma anche nello stesso Solinas e dal partito stando d'azione da centro-destra nel complesso. A pensare male a volte ci si azzecca, è un problema di poltrone? Dovrebbe essere un problema di poltrone, anzi è un problema di poltrone ma anche di poltroncine perché oltre agli assessori ci sono in gioco le dirigenze e le direzioni generali delle ASL, non è chiaro ancora quante siano, attualmente ce n'è solo una, dovrebbero diventare tre, quindi c'è una riforma della sanità a cui mettere mano, così è stato annunciato in campagna elettorale. Poi ci sono tutte le direzioni generali degli ospedali, delle aziende ospedaliere e poi tutti gli altri enti, le agenzie regionali, la solia agricoltura ne abbiamo tre, c'è l'agenzia Forestas, c'è il corpo forestale, quindi ci si sta mettendo d'accordo su tutto, senza dimenticare Antonello che il 16 di giugno andremo a votare per comuni importanti come Cagliari, Sassari, Alghero, Monserrato, Sinnai, Bosa e via elencando e quindi c'è tutto un gioco di equilibri che in qualche modo il caso Sassari lo dimostra, non ci si mette d'accordo sul candidato del centrodestra, una serie di equilibri che condizionano anche il completamento della giunta regionale. Rimaniamo in tema, intanto nel palazzo regionale di Via Roma arrivano i primi provvedimenti, vediamo. Non è ancora completato l'organico ma la giunta regionale già comincia a lavorare, il presidente della regione Solinas ha riunito nei giorni scorsi nella sala Lusso a Villa Devoto la giunta tra i provvedimenti adottati, su proposta dello stesso presidente, l'approvazione degli indirizzi per lo svolgimento delle elezioni dei sindaci e dei consigli comunali dei comuni impegnati nelle consultazioni. Inoltre, su proposta dell'assessore all'ambiente Lampis, sono state approvate le prescrizioni regionali dirette a contrastare le azioni contro gli incendi. La dotazione di mezzi prevede per questa stagione l'utilizzo di 11 ricoteri e 3 canadair. Le prescrizioni approvate sono previste e individuate dal piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Confermiamo anche questa nuova dotazione dei personaggi dell'agenzia Forestas, ha detto il presidente, e utilizzeremo le associazioni di volontari presenti nei singoli comuni. L'assessore Lampis, inoltre, ha portato in approvazione anche il provvedimento che permette al comune di Pula la prosecuzione degli importanti interventi per la messa in sicurezza dell'area archeologica di Nora. Lasciamo la polemica, la politica, scusate, adesso parliamo delle mamme Sard, Sard del Cindre, la prestigiosa associazione premia i servizi isolani dedicati appunto alle mamme. Vediamo. Save the Children ha scandagliato i servizi dedicati alle mamme nell'isola. Il risultato è più che l'usinghiero, tanto che la Sardegna, nella graduatoria nazionale, ha scalato di un posto la classifica, dal quindicesimo posto al quattordicesimo posto. Il report è stato proposto dal portale Le Equilibriste, la maternità in Italia, diffuso in occasione della settimana della festa della mamma. La ricerca coinvolge anche l'indice delle madri elaborato dall'ISTAT per conto di Save the Children, che fotografa le condizioni delle madri nelle regioni, prendendo in considerazione 11 indicatori rispetto a tre dimensioni, quella della cura, del lavoro e dei servizi. Nello specifico, la cura fa un bel passo in avanti, passando dalla diciottesima posizione e alla sedicesima. Il lavoro femminile, anche questo, sorride, scalando di un gradino, assistandosi alla quindicesima posizione. Un dato che viene ancora una volta confermato a livello nazionale è la difficoltà di far conciliare la vita professionale e la cura dei propri figli. Se nella fascia d'età 25-49 anni, infatti, le donne occupate senza figli sono il 64,3%, tra quelle con figli minorenni la percentuale scende al 56,8%. Correre e ripari con il lavoro part-time, per il momento, sembra l'unica soluzione valida. In generale, la Sardegna perde un posto, ma in ogni caso undicesima, posizione pregevole e vicinissima alla soglia obiettiva del 33% della comunità europea. Infatti, la copertura nell'isola è quasi del 30%. Sono sempre più vicine le prossime elezioni europee. Conosciamo più da vicina la candidata Antonella Zanna. Antonella Zanna è il candidato per le elezioni europee per quanto riguarda il centro-destra e soprattutto Fratelli d'Italia. Cosa pensa che serva alla nostra Sardegna per poter contare qualcosa di più in Europa? Alla nostra Sardegna serve forza. Alla nostra Sardegna serve un euro parlamentare che in maniera convinta porti tutte le istanze della nostra terra. Oggi noi siamo stati in questi anni succubi di un'Europa matrigna che ci ha portato a pensare che l'omologazione totale fosse la risposta. Invece la salvaguardia delle identità dei popoli, l'unica risposta affinché una terra come quella della nostra terra, la Sardegna, possa ancora vivere e sopravvivere. E sinora come ci hanno governato i nostri eletti nel Parlamento europeo? Ci hanno sgovernato. Ci hanno sgovernato e ci hanno sgovernato sì perché erano assenti oppure perché non sono riusciti a portare avanti le istanze della nostra economia per esempio. Non sono riusciti a portare le istanze della nostra economia, probabilmente alcuni erano anche assenti. Ma alcuni hanno addirittura votato l'abolizione dei Dazi per far arrivare in Italia l'olio tunisino. E non penso che sia un favore alla nostra terra. Ecco, lei pensa di potercela fare in virtù di che cosa? Io penso di potercela fare a essere eletta perché sono l'unica candidata sarda per Fratelli d'Italia che mette a disposizione il proprio tempo, i propri saperi affinché la Sardegna arrivi forte in Europa. Lei si ritiene un volto nuovo della politica chiaramente, lei non è molto nota insomma negli ambienti politici. Io non sono nota negli ambienti politici ma faccio politica dall'età di 18 anni, militavo in alleanza nazionale prima, oggi sono tra i fondatori di Fratelli d'Italia. Andiamo avanti, ci spostiamo a Olbia, le scuole della capitale galdurese hanno visitato nei giorni scorsi i campi di concentramento, un'esperienza indelebile. Vediamo. Il Comune di Olbia prosegue il progetto sui diritti e l'uguaglianza iniziato lo scorso anno con i ragazzi delle scuole medie. D'altre al 5 maggio si è tenuto il viaggio a pellegrinaggio della memoria a Dachau, Mauthausen e Aorteim. Le tre scuole che hanno aderito al progetto e dall'assessorato alla cultura e che hanno partecipato al viaggio sono l'Istituto Ansicura, l'Istituto Luigi Panedda e liceo scientifico Lorenzo Mossa. Ieri si è tenuto il 74esimo anniversario della liberazione dei campi di concentramento, la celebrazione si è svolta al campo di Mauthausen. Olbia era presente come unica città della Sardegna, insieme a tanti altri comuni d'Italia e associazioni provenienti da tutto il mondo. È stata per tutti un'esperienza commovente e toccante che non dimenticheremo mai. Vogliamo che cresca forte nei nostri giovani il desiderio di una società pacifica e migliore, improntata al rispetto dei diritti fondamentali delle persone e delle loro idee, alla condivisione ed all'impegno per il bene comune. Così si esprime l'assessore alla cultura Sabrina Serra e prosegue, formare i giovani a questi valori è il più grande investimento per il futuro e non riguarda né posizioni politiche né ideologiche, riguarda la costruzione di una comunità migliore, che non cada più nei terribili orrori del passato che questi luoghi ci circondano in modo così forte. Alla cerimonie era presente Ennio Trivelin, uno dei pochi superstiti ancora in vita. I ragazzi dell'Istituto Panedda hanno fatto una ricerca e hanno trovato i nomi di tutti i sardi che sono deciduti nei campi di concentramento. Grazie a questo grande lavoro è stato possibile, durante la cerimonia al Monumento Italiano, dare un nome a tutte le matricole sarde. I ragazzi hanno esibito un cartello con i nomi durante il discorso dell'assessore Serra. In questo modo è stato possibile onorare il ricordo e la memoria di tutti i morti della Sardegna. Adesso la cronaca, il conducente di un autobus è stato aggredito ieri pomeriggio a Tiesi, l'autista era alla guida del mezzo, Arst, che viaggia sulla linea Sassari Padria, quando intorno alle 18 è salito un uomo sprovviso di biglietto. Ha chiesto di poterlo acquistare la fermata successiva, ma durante la corsa il guidatore ha capito che in realtà il viaggiatore non aveva intenzione di procedere alla regolarizzazione. Quindi è nato un litigio sfociato poi in un'aggressione a danno dei conducenti, che secondo quanto riporta una nota dell'affitto CISL, a firma del segretario territoriale Alessandro Russo, sarebbe stato stratonato e aggredito con pugni e calcio, riportando le felitte. Sul posto sono arrivati i calabini dell'ambulanza, chiamati dagli altri passeggeri. Il dipendente dell'Arast è stato portato a pronto soccorso, mentre l'aggressore è stato identificato. Adesso ci lasciamo un attimo per qualche spot pubblicitario. Eccoci in studio per la seconda parte. Festa grande ieri a Sant'Antioco per il santo patrono del paese e della Sardegna. Riflessi curati da Valentina Urgio. Sant'Antioco ha rinnovato ieri il voto per il santo patrono della Sardegna nella festa religiosa più antica dell'isola. Da 660 edizioni, il terzo lunedì dopo la Pasqua, la cittadina sulcitana si veste a festa per celebrare il martire cristiano, originario della Mauritania. Gruppi folk tra casse e cavalli hanno accompagnato il simulacro del santo e le reliquie ritrovate nel 1615 nella catacomba a lui dedicata. Sant'Antioco per 660 anni festeggia il suo santo. Tutta la Sardegna festeggia Sant'Antioco. Cosa vuol dire questo? Certo, questa è una fede che si rinnova ormai appunto da 660 anni, è un attaccamento di fede assoluta nei confronti del martire sul cittano e oggi siamo appunto felici di rinnovarne la fede, il ricordo attraverso questa bellissima festa. Ovviamente le funzioni religiose è una grandissima processione di colori. È un appuntamento però non solo religioso? No, effettivamente ormai sta diventando un appuntamento fisso, si sta affermando sempre di più come appuntamento anche come spunto per le politiche turistiche su cui noi puntiamo molto per appunto sviluppare il territorio. Adesso la pagina della cultura, mutazione il titolo della nuova edizione di Lacanias presentato questa mattina a Cagliari. Vediamo. Il progetto Lacanias è in dirittura d'arrivo anche per quest'anno, il progetto in se stesso è la circostante popolazione e territorio di Neonili? Sì, siamo in dirittura d'arrivo. C'è una novità quest'anno perché il festival letterario Lacanias non sarà più a ottobre ma ha dal 6 al 9 giugno, quattro giorni ricchi di appuntamenti letterari, musicali, artistici che sono il coronamento di un'attività culturale che portiamo avanti nell'arco di tutto l'anno. Ecco, per i più distrati raccontiamo come nasce questa bella manifestazione. Allora, diciamo che un appendice dell'evento enogastronomico saverregulato è nato nel 2010 e quest'anno è la decima edizione. L'abbiamo arricchito ogni anno ulteriormente di eventi culturali per cui abbiamo fatto una riflessione, ne valsa la pena scindere l'Icanias e creare un evento letterario con tutti i crismi che fa sintesi di tutte le attività che portiamo avanti con le scuole e con la biblioteca che è un fattore molto importante. E con i suoi concittadini come vivono questo evento? Diciamo che negli anni si stanno affezionando a questa manifestazione. La cosa che ci fa molto piacere è che molti gnonilesi che stanno fuori approfittano del festival per farsi 3-4 giorni di vacanza nel loro paese nativo. Il suo pensiero personale è sulla importanza di queste attività culturali all'interno dei piccoli centri della Sardegna? Beh, lo dico ripetutamente ogni volta che me lo si chiede. Noi riteniamo che la cultura sia la base della crescita socio-economica di qualsiasi comunità. A maggior ragione le piccole comunità dell'entroterra sardo che soffrono tanto del problema dello spopolamento. Con questi eventi qua noi pensiamo di offrire un grandissimo servizio alle nostre comunità e ai nostri territori. Direttore, quali sono le novità di questa edizione di L'Icanias? La novità è il periodo in cui si svolgerà la manifestazione, è stata spostata da ottobre a giugno, quindi si svolgerà tra il 6 e il 9 di giugno. L'altra novità, grossa, che speriamo abbia un lungo futuro, è l'istituzione di un premio per narrativa inedita di autori sardi, di autori nati o residenti in Sardegna. Cosa vuol dire organizzare una manifestazione di questo genere sotto il punto di vista artistico? È una bella responsabilità, prima di tutto verso i cittadini, naturalmente, verso tutto il territorio. Significa avere uno sguardo aperto verso tutto ciò che propone principalmente il mondo dei libri, della letteratura, ma non solo. Infatti, nel festival ci sono anche artisti di tipo diverso, ci sono musicisti, ci sarà Odi Freddi con un recital. Significa avere sostanzialmente un'idea di mondo e provare a, per quanto possibile, a condensarla in quattro giorni in un numero limitato di incontri. Criticità? Criticità probabilmente, ma non potrebbe essere diverso, considerato che il paese è molto piccolo, ormai ha meno di 700 abitanti, l'accoglienza, perché tanti ci stanno chiedendo dove poter alloggiare, dove potersi fermare per tutti i giorni del festival. Ci sono dei posti, ci sono naturalmente delle persone che offrono un alloggio, però se si vuole pensare magari anche di far crescere la manifestazione nel futuro, ancora di più questo è un punto da studiare bene. Facciamo uno spot perché visitare e vivere soprattutto questa bella manifestazione? Beh, tanto ci sono alcuni dei principali nomi della letteratura italiana contemporanea. Ognuno di loro declinerà il tema mutazioni in maniera diversa, un tema che naturalmente ci riguarda tutti, non c'è neanche bisogno che entri nel dettaglio tutto quello che ci succede attorno. Da premiare questa manifestazione perché si rivolge anche ai più piccoli, ci sono dei laboratori nella scuola primaria, nella scuola secondaria legati al festival. Ci saranno degli artisti visivi che proveranno a mutare in linea con l'argomento del festival l'aspetto del paese o almeno di una parte di esso. Credo che per un paese, per un centro così piccolo sia un festival veramente importante e ricco. Quattro anni e mezzo di reclusione è la pena infritta oggi dal giudice Giorgio Altieri nei confronti di Sandra Murgia, responsabile della sedia Aias di Decimo Mannu. Il direttore amministrativo regionale, Vittorio Randazzo, è stato assolto perché il fatto non costituisce reato. Erano finiti sotto processo per i maltrattamenti subiti dagli ospiti in quell'edificio perché secondo il PM Liliana Ledda i due dirigenti non potevano non sapere ciò che accadeva. Si chiude così in primo grado la seconda tranche di un procedimento che si è concluso con tre condanne e otto patteggiamenti a carico di altrettanti lavoratori, infermieri e os della struttura di Decimo. L'indagine era stata avviata nel luglio 2014 dopo l'arrivo in procura a Cagliari di una denuncia nella quale una lavoratrice di quel centro, Aias, segnalava fatti da lei ritenuti gravi e meritevoli di un intervento immediato delle forze dell'ordine. Per quanto riguarda lo sport, ancora polemica per l'incontro dell'altro giorno tra Napoli e Cagliari, il punto di vista dei giornalisti dell'Unione Sarda, Fabiano Gaggini e Enrico Pelia. Fabiano Gaggini, dietro dell'Unione Sarda le partite dei Cagliari, una partita già scritta, quella di Napoli. No, scritta no, perché stava andando anche in un certo modo. Purtroppo è successo quello che spesso succede con le squadre, non con le big, ossia l'utilizzo del VAR abbastanza distorto. Poi bisogna chiaramente anche andare al di là dell'episodio perché comunque il Cagliari ha fatto una buona partita e io penso che da qui si debba ripartire. Il Cagliari è tornato sconfitto, amareggiato, però consapevole di potersela giocare alla grande in queste ultime tre partite. Io penso che sia questo anche il fatto da cui ripartire. Come ha detto tra l'altro lo stesso Presidente, una volta incassato il colpo e una volta smaltita la rabbia, perché è chiaro che la rabbia è tanta, tantissima, perché perdere una partita al 98esimo fa venire la rabbia, è chiaro. Però sono convinto che proprio da questa sconfitta il Cagliari troverà le forze per giocarsi alla grande in questo finale di campionato. Il campionato che gli riserva? Beh, sabato io penso che arriverà sicuramente la salvezza, ma parlare oggi di salvezza a 40 punti mi sembra anche abbastanza riduttivo e anche ingiusto. Il Cagliari se la può giocare per il decimo posto, ha due punti da recuperare al suolo e alla spalla, ha un calendario migliore e anche una squadra secondo me migliore. Continuiamo a parlare della partita. E per Enrico Pilia che cos'è accaduto a Napoli domenica notte? Secondo me è una colossale ingiustizia. Buonasera a tutti, perché al San Paolo l'aria della Beffa c'era con quell'assalto finale del Napoli, però il fallo di mano nessuno ancora è certo se sia avvenuto in area o no, perché il difensore del Cagliari, cacciatore, è saltato, ha colpito la palla col braccio, l'arbitro ha fatto correre, l'azione è proseguita, richiamato poi all'ordine dai collaboratori della VAR, lui ha visto, ha seguito meglio l'azione in un monitor, in un gioco, quello del calcio, che è cambiato. Il calcio non è più quello di prima, il calcio si affida, chissà se giustamente o no, agli strumenti elettronici e questo determina una variazione dei risultati in base a una decisione presa a bocce ferme, come si dice. Il Cagliari recrimina, la Gazzetta dello Sport scrive, era rigore, Sky sul momento ha fatto capire che invece non era rigore, quindi la polemica impazza, i tifosi sono furibondi con l'arbitraggio, col sistema, il Cagliari chiede giustizia e quindi siamo comunque davanti a un grave torto, perché comunque il Cagliari con un punto sarebbe stato più o meno salvo, ora nelle ultime tre partite la corsa deve proseguire. Ma quanto contano le relazioni nel campo calcistico? In questo caso quanto conta il Cagliari nel campionamento in Serie A? È un tasto battuto fortemente ieri dal direttore sportivo Carli, che ha detto se fosse accaduto a campo inverso forse saremmo qui a gridare lo scandalo, invece nessuno ne parla, voi stessi in studio su Sky o la domenica sportiva state sorridendo, no, per il Cagliari un punto sarebbe stato uno straordinario traguardo, quasi una Champions League, sicuramente la famosa suddittanza psicologica esiste ancora, il VAR da strumento infallibile si è trasformato in uno strumento opinabile, cioè utilizzabile dall'uomo a seconda dei momenti e questa è la vera grande struttura del calcio in questo momento. Il nostro giornale termina qua, grazie per l'attenzione, la prossima edizione alle ore 18. Buon pomeriggio a tutti.